salve a tutti ragazzi eccoci di nuovo qua con il vostro zura ed un'altra tank review quest'oggi andremo a parlare del 705 obj oggetto 705 è un veicolo dell'esercito sovietico pesante tier 9 diciamo che è un carro piuttosto nuovo è stato aggiunto se non erro un paio di patch fa ci si arriva passando dall'is un classico del dell'armata sovietica il pesante pesante del tier 7 praticamente ormai dall'is si può andare in in più direzioni mentre prima l'is era una scelta obbligata che portava agli s3 poi il t10 e gli s7 adesso invece gli s ha un ramo che si sdoppia su due linee una la classica che finisce con gli s7 e un'altra sono dei pesanti con torretta montata al posteriore vedete la formula torretta è piuttosto simile a quella del partito replay piuttosto simile a quella del degli s7 molto 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 arrotondato molto molto russo ma è posizionata sulla parte posteriore del carro il che vuol dire che lo stile di gioco di questi veicoli qui differisce un po da quelli di dell'altra linea ok quella standard degli s7 prima di andare a vedere come se la cava su ensk mappa corta una mappa abbastanza da pesante quindi diciamo una mappa abbastanza favore andiamo a vedere come sempre di che cosa stiamo parlando e lo mettiamo subito 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 a paragone con più che i suoi della sua categoria il tier 9 pesante il tier 9 ce ne sono veramente tanti io ho preso tu solo i russi ho preso solo i russi se dovessi essere sincero il veicolo pesante che ha uno stile di gioco che assomiglia più di tutti al 705 è il vk 4502b il tedesco con torretta al posteriore perché il l'avere la torretta al posteriore fa sì che il di solito i carri con torretta al posteriore sono dei carri buoni in side scraping cioè il side scraping è quella manovra di difesa dove noi mostriamo il lato del carro molto molto angolato poi dopo andremo a vederlo sia durante la partita sia quando guardiamo il layout dell'armatura per far sì che i colpi rimbalzino e scivolino io attiro mostro un po il mio fianco che di solito su tutti i carri il fianco è un punto debole mostro il fianco per indurre l'avversario a spararmi sul fianco quindi a far scorrere i proiettili sul fianco del carro togliamo il vk perché tanto la comparativa ci sono tanti carri allora ho due 705a perché questo carro ha una scelta di due cannoni a un 122 millimetri bl 13 1a derivato direttamente lo stesso che troviamo sull'opj 257 stesso cannone dopo di che abbiamo il 705a con il 130 millimetri s70 che è lo stesso cannone che possiamo trovare sugli s7 sul tier 10 quindi abbiamo due cannoni di livello 10 che differiscono tra di loro e lo andiamo subito a vedere il primo obj è quello con il cannone piccolo 122 millimetri il danno per minuto è più alto abbiamo 248 di penetrazione 440 di danno stessi identici valori velocità del proiettile favolosa 1259 stesso cannone del 257 velocità del proiettile favolosa perché guardate bene abbiamo i proiettili a pcr i famosi chiodi come proiettili standard quindi molto molto bene il cannone piccolo come penetrazione come alfa come velocità del proiettile come danno per minuto senza ombra di dubbio tra questo quartetto di carri pesanti sovietici il firepower migliore è senza ombra di dubbio quello dell'opj 705 con cannone da 122 mettendo il cannone da 130 cioè il cannone degli s7 guadagniamo un impercettibile bonus in penetrazione guadagniamo un po di alfa perché il calibro più grande fa sì che ovviamente il danno sia maggiore e la possibilità di danneggiare modo gli avversari sia superiore abbiamo però meno proiettili la velocità del proiettile cade vergognosamente sotto a mille e cade anche il danno per minuto onestamente alla luce solamente di firepower io sarei propenso a scegliere il 122 mm ma andiamo avanti quindi miglior firepower per il nostro 705 iniziamo bene gun handling come si comporta questo cannone questo cannone a un gun handling abbastanza sovietico tempo di puntamento lungo il t10 fa meglio praticamente ovunque quindi punta in minor tempo è decisamente preciso 036 meno dispersione ruotando la torretta tutti i carri hanno 5 di gun depression a parte le sti che è il carro un po più alto è un po più un hull downer un carro che si gioca un po più un po più di torretta ha la possibilità che con i suoi 8 gradi di gun pressure di fare un lavoro un po più americano un po più americano come stile ok però il gun handling del 705 non è il peggiore il peggiore è quello del 705 con il cannone grande perché mettendo i 130 millimetri la precisione sale a 0,42 per la dispersione quindi più un cannone dispersivo meno è preciso il termine dispersione è l'opposto di precisione quindi più questo valore basso quindi vuol dire che il cannone ha meno dispersione quindi più è preciso ok è la dimensione della rosa più il numero è piccolo più la rosa del vostro mirino di puntamento è piccina quindi tra 0,42 e 0,38 la differenza è veramente sensibile gli altri parametri sono uguali quindi alla luce di queste due cose io direi che consiglio tutti quanti di giocare il 705 con il cannone più piccolo vogliamo aggiungere un qualcosa a questa mia teoria se siete in emergenza e fate ricorso ai proiettili premium il cannone piccolo ha delle hit ha delle hit con 315 millimetri di penetrazione mentre il cannone quello più grosso ha degli apcr come gli s7 si più veloci ma la penetrazione si ferma a 303 quindi stesso problema che ha il tier 10 s7 pochissima penetrazione vi consiglio di andare con il cannone piccolo perché i vantaggi sono tanti e l'unico svantaggio è 50 danni in meno ogni colpo però sparate di più però siete più precisi però penetrate di più però velocità del proiettile più alta dai ragazzi non c'è non ci sono dubbi personalmente poi magari qualcuno preferisce l'altro comunque sia il gun handling il gun handling non è il migliore dell'otto il migliore dell'otto è quello del t10 poi 257 e poi sti direi perché 8 gradi di grande pression dando la possibilità le dispersioni delle sti sono vergognose ma la possibilità di andare in all down con 8 di abbasso quindi il gun handling di questo carro non è particolarmente buono soffrirete molto se cercate di colpire qualcosa che è lontano mobilità abbiamo un onesto 40 con un 15 abbastanza standard qua abbiamo due cariche fanno meglio il rapporto peso potenza è ok è ok però il t10 è enormemente più mobile e il 257 è altrettanto mobile quindi direi che questo 705a ha una mobilità standard accelerazione in salita la cosa grave grave di questo carro sono i 25 di tank traverse cioè il carro è incollato per terra peggio dell'sti quindi nel ruotare sul posto è veramente veramente lento quindi se qualcuno prova a girarvi intorno molto probabilmente riuscirà a girarvi intorno perché la torretta gira lentamente e il carro ruota lentamente quindi la mobilità è una delle peggiori passiamo ora al comparto armatura e punti ferita che sono molto importanti abbiamo degli ottimi valori come corazza frontale non tanto buoni come laterale o perlomeno non buoni come il mostruosa il mostruoso side scrubbing dell'esti ai i valori della torretta però se leggo sono buoni 300 150 e 100 ma è come ben sappiamo la forma arrotondata sicuramente amplificherà questa sensazione positiva che ci danno questi numeri buoni molto buoni 2000 punti ferita ok il carro è normale come infiammabilità e la vista diciamo abbastanza schifo standard o equipaggiamento consigliato caricatore stabilizzatore ventilazione puntare sulla vista sui un russo pesante la prima linea anzi qui quasi sconfiniamo nel super pesante perché per 10 tonnellate non finiamo nella categoria di super pesanti qualcuno potrebbe dire forse io preferisco le ottiche a posto della ventola si è una buona scelta sono due scelte entrambe valide probabilmente con un super equipaggio e le ottiche si potrebbe riuscire fratelli d'arme situational awareness cibo premium si in questa condizione qui si potrebbe arrivare avere una vista eccezionale potenziando tutto il comparto vista al top e darebbe sicuramente degli ottimi risultati anche dal punto di vista di spotting layout oddio sbagliato layout dell'armatura tier 9 705 andiamo a vedere il layout dell'armatura il layout dell'armatura che è una cosa che ci interessa molto 155 mm sul frontale è il cofro è da 155 mm la parte sotto è da 120 c'è un buon angolo il carro già dritto per dritto ci offre un 250 quindi è abbastanza corazzato però non è qui che dà il meglio di sé allora la torretta come vedete è assolutamente fantastica la parte frontale è super arrotondata super corazzata è molto molto improbabile barra impossibile che un colpo di un qualsivoglia veicolo del gioco entri in torretta jack panzer è 100 con le gold o qualche super cacciacare tier 10 potrebbe sfondare le guance ma sarebbe più semplice sparare in qualunque altra parte del gioco questo carro con la torretta posteriore di solito è un ottimo side scraper e così è angolando un po' questo veicolo e ruotando il cannone verso l'avversario e quindi nascondendo la piastra sotto abbiamo dei valori decisamente interessanti come sempre prendiamo la mia faccia la utilizziamo la mia faccia è un muro e qui abbiamo dei valori decisamente interessanti molto molto solido attenzione a non sovra angolare il carro perché 90 mm di laterale sono un buon valore ma non eccezionale vedete appena aumentato un po' si scoprono dei buchi guardate il buco è arrivato fino a qua quindi il side scraping va fatto veramente veramente impercettibile tipo 70 20 ok tenete presente sempre i 90 gradi no quindi anziché 30 60 che è questo qui dobbiamo tenere un angolo molto 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 acuto da questo lato qua altrimenti perdiamo efficacia e rischiamo di essere bucati poi l'armatura di questo carro è un po' particolare io ancora mi ci devo abituare è un carro che può avere una difesa assoluta oppure perderla se gli avversari sono leggermente sopra di voi guardate tutto il cafo il cofano diventa un punto debole i veicoli del tier 9 e del tier 10 senza considerare che questa cornice auto penetrazione non hanno problemi a bucarvi la posizione migliore per questo veicolo è la pianura anzi lui deve essere un pelo più alto ecco se riuscite a posizionarvi in pianura o leggermente più in alto così e sfruttate i vostri 5 gradi di gun depression che lo so che sono pochi sarebbe come dire mettiamo il cingolo sopra a una autovettura schiacciata no a un pullman che avete già schiacciato in precedenza nascondete il weak spot dietro al muro così la mia faccia è un muro a questo punto ci troveremo di fronte a un pazzesco mostro mi è capitato di assorbire tutto e di più completamente auto bounce o 300 320 330 in più è veramente impressionante e questa guancia questo triangolo qui fa sì che in questa posizione questo caro sia veramente miciale ma basta sbagliare appena ecco mettere il cingolo in una buca e automaticamente si generano dei buchi di corazza e quella che sembrava invincibilità pochi secondi prima diventa un frustrante weak spot quindi tutt'altro che facile mettere questo carro come vedremo in posizione io qui non siamo a bottom tier il carro è lento me ne vado me ne vado a ho subito pensato di andare in città poi ho detto ma no io sono basso ho una bella armatura qui c'ho un sacco di questi palazzi mi metto qui in side scraping perché sono figo e invincibile e bastono tutti quelli che mi trovo davanti questo è stato il mio primo pensiero cannone non preciso ragazzi eh sparo ecco due colpi boom boom dentro ok piastra sotto piastra sotto è il weak spot nonostante il marciapiede nonostante tutto i due avversari giù in fondo hanno trovato weak spot ho bloccato il colpo del tortoise ok che è scivolato sulla mia armatura laterale e mi sono impuntato su un muretto in maniera sbagliata e prendo altri colpi e dico ok qui sono vedete ho già rimbalzato leopard 50m tortoise sono in una posizione buona ecco ho appena messo mannaggia a me questo cingolo più in basso questo più in alto e quindi ho fatto quella rotazione che mostra è come se il nemico fosse più in alto di me questo che prima era uno scalino fa era impossibile da penetrare è diventato weak spot e dico subito ma porca miseria mannaggia a me che è somaro mi vado a rimettere più in basso e tengo un angolo molto 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 acuto tra me e il mio nemico eccolo qua i colpi arrivano rimbalzano qui e scivolano via se avessi messo il carro più qua ok rischierei che questa difesa non è sufficiente intanto ho perso già parecchia vita il cannone non è preciso dalla distanza come vedete ho sparato una banana ho messo sugli proiettili premium ma non perché servono i proiettili premium col tortoise che tanto bisogna sempre colpirlo nel weak spot è perché ecco vedete io l'ho colpito su la parte sulla guancia del del corpo no considerando che il cannone non è tanto preciso certe volte il proiettili premium mi dico sparo sulla sagoma magari mi va non sul punto dove io vorrei sparare che è la cupolina no ecco questo addirittura è andato un beletto più alto però magari mi va su una parte di corazza e il proiettili premium mi aiuta ad effettuare una penetrazione no ecco qui tortoise mi ha bucato vedete io qui ho aumentato l'angolo ho aumentato l'angolo e mi soppreso una botta da qualche parte guardate riguardiamo da sopra vedete ho fatto quella cosa che dicevo prima di non fare ho aumentato l'angolo devo stare ecco vedete che qui ho corretto qui ho corretto l'angolo eccolo vedete vedete qui quel nabbo di zura si accorge dell'errore perché è di e ora torno a rimbalzare i colpi questa zona qui vedete da wix poter ritornare invincibile è è un carro che è un carro che mi ha fatto fare delle partite eccezionali oppure in alcune partite ho fatto zero e sono morto morto così tutti i colpi sono entrati bisogna prestare molta molta attenzione più è un pesante che non è non è così semplice come può sembrare grandi valori sulla carta e vi confermo che questa grande armatura nella torretta c'è c'è tutta è affidabile sempre per lo scafo qui devo togliermi assolutamente il la tartaruga dai piedi che mi dà veramente molto fastidio mi sono avvicinato un pochino posso posso riuscire a mettere a segno buoni colpi sul tortoise ora sono in una posizione vedete il tortoise continua continua insiste ma una volta messo in posizione giusta dong e 75 non qui non ce n'è più per nessuno il t57 tv traccato di profilo è un buon bersaglio è un buon bersaglio riproviamo martelliamo ancora il t57 tv un attimo ora devi aspettare 5 minuti poi dopo arrivo e vediamo di togliere questo veicolo andiamo di togliere questo veicolo è stato tolto dal mio compagno con lo 3 a 1 abbiamo già assorbito 3600 danni e 50 gli regaliamo 445 come vedete la velocità di volo del proiettile è veramente molto molto valida il canone piccolo personalmente è senza ombre dubbio la scelta migliore dopo un inizio tentennante abbiamo trovato la nostra posizione ho dovuto prendere dei colpi ho messo a arrepentaio il mio veicolo alla grande ora mi avvicino e devo cercare di mettere un po di pressione soprattutto cercare di stare attento al tortoise e anche a un conqueror che mi esce da lì mando a casa un obj 263 ovviamente colpendolo nel fianco e qui adesso sono problemi ho pochi punti ferita side scraping aiutami tu primo colpo assegno mi posiziono guardate il l'angolo mi posiziono bene il ragazzo colpisce una zona particolarmente dura che è l'incrocio fortunatamente per me strano che un conqueror sbagli piastra sotto perché ho le hit devo stare attento a non colpire la spaziata mi distanzio cerco di rimettermi inside scraping per offrire ma lui è un probabilmente un senza mani non era neanche non era neanche un giocatore scadente non si sa perché ha sparato sul muro forse un po di un po di ansia mi arrampico rimbalzo il leopard viene tolto viene tolto il tortoise da un mio compagno che mi dà la possibilità di mettere a segno un buon colpo sul leopard l'armatura come vedete ha funzionato il carro è tutto o niente fondamentale il pilota e ora tasto destro sparo il proiettile va per terra ovviamente la mira automatica su un cannone assolutamente non preciso quindi abbiamo testato il cannone a lungo ed ora qui c'è un vt chiudiamo la rosa chiudiamo la rosa chiudiamo la rosa perfetto colpisco il mio compagno il colpo anziché andare qui è andato sulla carcassa del 263 è rimbalzato via quindi il cannone nonostante il cannone piccolo sia più preciso di quello grande vi assicuro che vi farà arrabbiare ok la partita è finita nulla di che non non una buona partita ma vi erano elementi particolari per farvi vedere che maestria fenomeno confederato va bene 5500 danni va bene 4400 danni assorbiti va molto bene è servita per farvi vedere che questo carro ha grandi cose e grandi problemi contemporaneamente l'armatura può fare tutto ma se sbagliate posizione oppure lo mettete nelle condizioni voi non il carro non sbaglia mai se mettete un cingolo su un marciapiede e mettete il cingolo sbagliato la vostra armatura sparisce non è più efficace il cannone ha il dpm la velocità del proiettile ha la penetrazione ma dovete avvicinarvi perché i colpi vanno ovunque ovunque tranne dove dite voi quindi grandi pro e contro e concludiamo dicendo è un buon carro o no è un buon carro sono convinto che sia un buon carro sono convinto che io non lo so giocare ma lui ha fatto veramente grandi cose ho delle partite in cui ho resistito di fronte a 4 5 persone ho fatto delle robe incredibili ma non perché io sono bravo ma perché lui è un buon carro e io l'ho solamente messo nelle condizioni di lavorare bene è uno specialista è un side scraper estremo con un angolo di rimbalzo molto delicato però per il resto il cannone fa il suo lavoro i punti ferite ci sono il profilo è basso la torretta è impenetrabile fondamentalmente non prende neanche tanto fuoco quindi si potrebbe giocare col cibo premium e non ho molti soldi però i giocatori pro con il cibo premium riuscirebbero a limitare molto i problemi di precisione di dispersione quindi sicuramente con il cibo premium guadagna io penso che sia un un ottimo carro i pesanti russi del tier 9 sono tutti eccezionali sono tutti eccezionali l sti è fantastico il t10 è fantastico il 257 è fantastico e questo 705a non fa altro che confermare che i tier 9 pesanti sovietici se prima ho detto tedesco mi sono sbagliato russo i tier 9 pesanti russi sono eccezionali tutti quanti indistintamente ok ragazzi anche per questo review è tutto il vostro zura vi saluto vi appuntamento alla prossima non dimenticate like non like noi ci vediamo qui su youtube o su twitch vado a sentire che cosa vuole mia figlia grazie a tutti